profumi che stanno di porco? profumi che stanno di cignale? profumi che stanno di stalla? no lasciamo stare, vi lascio stare un pochino con quel genere lì e perché insomma temo che vabbia un po' abbottato, cambiamo genere e oggi vi parlo di lui, Angel Stas di Francesca Bianchi allora io non so se già lo conoscete, se non lo conoscete, io apriamo proprio un'altra parentesi abbiamo un capitolo nuovo su profumi che diciamo un pochino più tranquilli, un pochino più portabili, un pochino più facili da capire, un po' più facilità comprende, allora questa confezioncina piccolissima che sembra un pacchettino di sigarette, mi arrivava da Neos 1911, lo ordinavo da lì, il flaconcino, il sample di questo profumo piccolino l'avevo preso da Equation Natural, vi lascio dopo il sito, sia di Equation sia di Neos, dunque io quando ho sentito il campioncino di Angel Stas dal campioncino di Equation Natural, sono rimasto fondamentalmente e questo è la bottiglietta piccolina, guardate, cioè io ve lo metto diciamo in proporzione alla recchia mia, guardate, cioè praticamente è più grossa la recchia mia, più grossa la recchia mia, quindi per dire, è piccolino, è un 30 ml, capite bene, non è diciamo un profumo economico, costa sostanzialmente più di una muace, perché una muace lo pagate 250 euro il 100 ml, questo lo pagate 98 euro, il 30 ml, quindi la proporzione è subito fatta. Allora, però vi devo dire una cosa, cioè vi devo dire che la texture, la tessitura, la pasta, il DNA dei profumi di Francesca Bianchi è quanto di più creativo, è quanto di più poetico, evocativo, ci possa sta. Io nel set dei campioncini personalizzati che avevo richiesto a Neos, questa volta ci avevo messo anche il Masche Milano Romanza, che era un profumo con Narciso, Giacinto e Piscio de Gatto, regà, non so scherzare, però è bellissimo, poi ve lo recensirò, avevo fatto mettere Under My Skin sempre di Francesca Bianchi, Unbraided e Blanchated ragazzi, Unbraided e Blanchated ma stupito, poi avevo il racconto. Ci avevo fatto mettere Umbrarem di Stuart Parfum, ve lo cito, così vi cito un altro profumo di Stuart Parfum in relazione a questo, e poi sempre di Francesca Bianchi appunto il Sex and the Sea, quindi sesso e la spiaggia, sesso e la spiaggia. Allora io, ripeto, non so se li conoscete, però comunque Francesca Bianchi, sicuramente Valeria li conosce, che ce n'ha più di uno, più di due, forse più di tre, e questo l'hai sentito, vale, io so che l'hai sentito, anche Dio Cristiana del canale, non mi ricordo però ve lo lascio sotto il canale, di Cristiana che dove arriva a giorni il set di Francesca Bianchi, quindi sicuramente sarai sorpresa di quello che sentirai, proprio perché il DNA di questi profumi è veramente sorprendente, cioè rispetto a tutto quello, rispetto diciamo ai profumi anche molto corposi, caldi e carichi che possiate aver sentito, questi Francesca Bianchi sono molto riconoscibili, perché hanno appunto una tessitura, una pastosità e una cremosità, una pasta proprio particolare, molto particolare. Lei, Francesca Bianchi, fa i profumi in Olanda, però è un naso italiano. Comunque, Angel's Dust non mi sto a dire un nome quando, perché ah, c'è un broccolo lì, non mi sto a dire l'ispirazione, la cosa, eh, comunque Angel's Dust significa Wolverine de Angel, insomma lo capite, lo sapete, tutte queste informazioni extra, bella nata, ripete da soli. Allora, perché sono andato su questo profumo? Perché sono, ho fatto un po' di ricerche, diciamo, sul profumo leggermente più, ehm, talcati, ultimamente. Un profumo bellissimo che mi ha aperto questa via ai profumi talcati e di rossetto, proprio fondamentale, ma anche, soprattutto di pasta di rossetto, è stato il Moulerouche 1989 di Stuart De Parfum, che io amo la follia, solo che non ho ancora comprato, ce l'ho solo in campioncino. Poi sono andato su Rosa di Blanchette, di Blanchette, anzi no, io lo chiamo Blanchette, perché sostanzialmente ho scoperto che Blanchette è un marco italiano, quindi lo chiamerò Blanchette. E poi, eh, Incarnata, di Anatole Breton, ve li metto tutti, ve li metto tutti i profumi che ho citato qua sotto, eh, se voleste andare a vedere, a informare, vede più. Ehm, però, regà, Incarnata, avevo letto in un commento che era uno dei profumi che sapeva più di rossetto in assoluto, a me mi sa dei Cimici Puzzo, cioè io mi sono sprozzato Incarnata e ho schiacciato un Cimici Puzzo, perché io quando ero piccolo giocavo con i Cimici Puzzi e li schiacciavo, e regà, Incarnata, sa dei Cimici Puzzo, quindi c'è un sentore dei Iris, ma... no. È un rossetto, è andato a male. Ehm, invece... Ehm, vabbè, è Giotto che sta a giocare con Lily. Dunque, Angels Dust è una meraviglia. Io, ve posso dire che... È uno dei profumi, non lo so, penso sia uno dei profumi più belli che abbia provato. Ehm, sarà che questo è un periodo talcato per me, è un periodo in cui mi piacciono tanti talcati, è un periodo in cui sono andato molto a ricerca di profumi rossettosi, che sapessero un po' di rossetto, però questo è to the next level, proprio, proprio a livello successivo di qualsiasi altra cosa. Allora, c'è l'Iace, la Mimosa, la Vaniglia, il Muschio, il Sandalo, il Balsamo del Tolù, ehm... me sto a scordare qualcosa, e il Benzoino. Dunque, un po' di Pepe Nero e la Rosa. Allora, queste sono le note. Non è una piramide troppo complessa, però vi dico che, se sentite questo profumo, a me quello che mi viene in mente appena spruzzato è un panetto di burro. avete presente il burro? Quando si comincia a squagliare, che c'è dove di fare un ciambellone, per dire, no? E ci mettete proprio il dito dentro, che si affossa proprio sto dito nel sto panetto di burro. Immaginatevi sto panetto di burro con la cremosità e la pastosità dell'odore del burro, con un colore salmone antico. Sto panetto di burro salmone antico, quindi che caccia fuori proprio tutto sta Roma verosa vintage, proprio polveroso, è proprio sto panetto di burro intriso di rizoma di Iris, proprio di mimosa, proprio di quella bella, bella carica, che proprio emana polvere. Però vi dico che è una polvere che non riesce mai troppo a dissolvese nell'aria, perché questo profumo è una polvere che non gliela fa mai troppo a... Diciamo... Avete presente quando vi mettete... No, io no, però comunque ho visto. Avete presente quando le polveri vi mettete il make-up, no? Quando vi troccate, vi mettete quella polvere e ci stanno quelle nuvole di polvere. Questo non è un profumo in cui si sviluppa questa nuvola di polvere, perché la polvere rimane sempre... è attaccata a quella crema, a quella... a quella pasta burrosa di rizoma di Iris che crea e fa proprio questa fragranza. Infatti l'Iris è la nuova pre-nominante, però appunto non è un Iris come per esempio, per dire, no? Il Moulin Rouge, Histoire de Parfum, nel 1889, che è il profumo rossetto... che sa più di rossetto in assoluto al mondo, secondo me. quello è un profumo in cui dello spruzzi è polvere. Cioè lì è proprio polvere. Si sente proprio la cremosità, la plasticità e la cremosità è unita proprio alla polvere del rossetto. All'aspetto polveroso del rossetto. Invece qua no. È vero che c'è tanto Iris e tanta mimosa, però è una polvere che rimane sempre attaccata a quella tessitura pastosa e burrosa dei profumi di Francesca Bianchi, che ho ritrovato anche tanto in Sex and the Sea. Quindi qua è un cocco e un ananas proprio imburrati, proprio incastonati in questo panetto di burro. A seconda dei profumi che prendete, il The Lover Stale oppure appunto Under My Skin sempre di Francesca Bianchi, più o meno animalico. Cioè questo panetto di burro in cui c'è incastonata tutte le note che Francesca Bianchi usa è più o meno a base animalica. In questo caso non è a base animalica, ve lo dico, è più sofficio, è più tenue, è più passionale, è più romanzato, è più emozionale dei profumi di Francesca Bianchi se vogliamo parlare con qualcosa di tenue, di delicato, di un ricordo piacevole, sentimentalistico. Ecco, mentre gli altri sono molto più sessuali, come dicono anche i nomi stessi The Lovers Tale appunto il racconto degli innamorati oppure Sex and the Sea appunto il sesso e il mare Under My Skin sotto la mia pelle cioè sono profumi leggermente più sessuali. Invece Angel's Dust anche concettualmente richiama un qualcosa di meno meno schenchi cioè meno sessuale. Questo è più legato ai pensieri, a qualcosa di astratto, a qualcosa di meno immanente. Ecco, quindi però allo stesso tempo a livello materico è tanto materia cioè questo profumo a livello materico è un profumo in cui sta polvere ripeto non non crea mai questa aura di polvere secondo me ma rimane sempre tanto attaccato a sto panetto di burro ecco perché ci sento tanto questa pastosità questa questo aspetto appunto plastico e pastoso della pasta del rossetto. dei rossetti vintage molto di una volta allora immaginate appunto questi iris unito alla nota dolce della vaniglia del benzoino con la pastosità del rizoma dell'iris proprio e il sandalo che lo sapete il sandalo c'è un que di milky c'è proprio latte ok è unito all'aspetto vintage e rossettato della rosa il tutto il tutto il tutto addirittura prende un taglio soprattutto in apertura prende un taglio secondo me in apertura anche se non ho date base però soprattutto in apertura il balsamo del Tolù gli dà un respiro cioè allora non è un profumo così secondo me è veramente un capolavoro cioè io questo è uno dei profumi per la vita cioè lo vedete quanto è scuro anche abbastanza diciamo intenso io prima l'ho portato a mamma per farglielo provare io l'ho spruzzato sul braccio per un'ora ha riempito casa per casa si sentiva solo lui quindi comunque non è un profumo che dovete abbondare troppo cioè tre spruzzi basta non è vero costa 98 euro il 30 ml però un estratto e ve durerà parecchio tempo anche perché non è che voi tutti i giorni ah che mi metto per io a comprare lo cocomero scusate il cocomero che cosa mi metto per andare a far spesa Angel's Dust no Angel's Dust va messo in certe occasioni cioè ne ho detto come te per andare a fare compiere la rota scompiera la comista cioè quindi cercate anche uno dei circostanziali l'utilizzo dei profumi che fa cioè io per andare a far compiere la rota della comista mi metto rosa di blancheta per dire posso mettere rosa un pochino meno impegnato come profumo diciamo stessa famiglia sì è un tarcato dolce ed è un tarcato dolce però qua c'è vita e c'è una storia qua qua c'è qua c'è tanto a livello sensoriale ecco questo diciamo fa bene ai sensi perché è un profumo effettivamente molto molto buono ve lo recensirò buonissimo comunque questo invece c'è una storia c'è questo dello spruzzi e c'è un effluvio proprio di memoria c'è un effluvio dei ricordi devo ricordare la nonna devo ricordare la mamma devo ricordare proprio l'importanza proprio della figura materna a livello della struttura familiare non so tante cose che possono rimanere in mente però quello che vi posso dire è che lo dovete sentire perché è un profumo che ha tanto di femminile quanto di unisex per quanto mi riguarda ho provato a descriverlo però sostanzialmente lo dovete sentire è un profumo talcato dolce molto pastoso con un taglio balsamico ci si percepisce non troppo però forse è l'unica parte l'unica nota che richiama a un qualcosa di animalico tipico dei profumi della bianchi però per tutto il resto è molto innocuo molto innocente però è meraviglioso meraviglioso entra sicuramente tra i miei tre profumi preferiti in assoluto che per il momento sono Ambre Sultan Mask Tonkin e Angel's Dust dunque vi farò altri video su questo tema vi recensierò Rose de Blanchet che è meraviglioso in relazione a Lipstick Rosy fra Tric Malle vi recensierò Ambra Rem di Stuart De Parfum che mi ha sconvolto e altri profumi della Bianchi quindi io vi rimando al prossimo video penso aver detto tutto ciao